Abbiamo cominciato? Si, cominciato eh! Non lo faccio in italiano, dopo te lo traduco con spagna italiano rotto. Io posso parlare in spagnolo meglio, capisco tutto, però posso parlare in spagnolo. Tu parli fantasticamente italiano. Io non parlo niente, parlo il cazzo. No, no, no! Questa tabola dobbiamo evitare, aiutati! No! Allora, vediamo che sicuramente ha avuto una rabbia riprimita di qualche cittadina, che ti ha lasciato una cicatrice. No, a me! Non sto scherzando, sei tu che rompe il cuore. No, per me sono bellissima di tutti gli italiani. Grazie, un honore. Io volevo appartenere, se no, appartenere. Volevo sapere, sinceramente, trago in italiano o dopo te lo traduco con spagnolo? Volevo fare una domanda che nessun giornalista secondo me... Che mi quitte la camisetta! Lo dico io no! Quello che volevo dire è simpaticissimo, una domanda che risolto nessun giornalista. Qual è la domanda che ti sarebbe piaciuto oggi che ti domande? Piuttosto che come è andato nel 2012 e le solite cose. La pregunta che qualche giornalista... Io chiedo sapere qual è la pregunta che ti avrei gustato che oggi ti ha detto e di chi non ti ha detto. Dime che sei la prima che ti ha detto. Sì, la vera che sì che... Sì, troppo. Ok, ho visto che la mia domanda era... Che non posso parlare niente, non posso... Che ti ha detto la sua creatività? No, realmente... Para mi... È molto sencilla. Io sono... Mi sento un privilegio, mi sento una fortunata per tenere lo che tengo e per aver conseguito lo che hai conseguito in questo mondo tan difficile e realmente... Una pregunta che mi venerà felicità è... Con che... Soi felice, dia tras dia. È fantastico. E... La risposta è? Io con i due sobrini. Oh, che fantastico la tua persona! Tiene un cuore, sono grandi! Bravissimi! Quindi, come possiamo vedere, anche i tenisti famosi hanno un cuore. E anche gli spagnoli hanno un cuore, verrà? Perfetto! Sì, state bene? Sì, molto bene. Grazie mille, grazie. Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. Sì, grazie mille. Io vedo... A Roma. No, ti vedo quanti? A qua? Qua primo? A Roma e Monte Carlo. A ver, poneros che usavo una foto. A Roma e Monte Carlo. Sì, foto!